Volevo farmi una tisana per il tè delle 5 e ho preso un po' di zenzero ma forse ho esagerato. Ciao, sono Simona Vignali, naturopata esperta di salute naturale e alimentazione sana e tu stai guardando la mia rubrica di domande e risposte per il tuo benessere. In questo mio video che vedi qui ho descritto ampiamente i benefici dello zenzero che sono tantissimi tra cui proprietà digestive a favore della mucosa gastrica, anti-infiammatorie utili contro i dolori articolari, lo zenzero un antiossidante naturale che rinforza il sistema immunitario, un antibiotico e antivirale naturale utili contro gli stati influenzali, fa bene in caso di mal di gola e tosse. Lo zenzero è una radice molto aromatica e piccante, per qualcuno può risultare anche un po' troppo forte come sapore. Infatti mi scrive Nicoletta Daudine Ciao Simona, ti seguo sempre, ho visto il tuo video sullo zenzero e ho provato subito a fare la tisana ma non mi piace il sapore dello zenzero. Come posso fare? Ci tengo a bere la tisana di zenzero perché ho letto che fa dimagrire, è vero? Cosa posso aggiungere che non sia zucchero? Grazie per i tuoi video, ci spieghi sempre le cose in modo chiaro e semplice. Grazie Nicoletta, troppo gentile! Ma no, lo zucchero no! Adesso ti suggerisco delle ricette alternative. Prima di tutto bisogna fare comunque una buona tisana di zenzero, con zenzero rigorosamente fresco per ottenere una buona base aromatica. Come fare? Prendi un pezzo di almeno 3 cm di radice, sbuccialo bene e taglialo a fettine per fare sprigionare meglio i principi attivi. Poi fallo bollire in due tazze di acqua, piano piano a fuoco basso, per 10 minuti e con il pentolino coperto. Ecco come rendere la tisana più gradevole per chi come te non ama il sapore dello zenzero puro. Quando l'acqua con lo zenzero inizia a sobollire, aggiungi uno di questi ingredienti a scelta. La scorza di mezzo limone non trattato, la scorza di mezza arancia non trattata, la scorza di mezzo mandarino non trattato, una stecchetta di cannella, un cucchiaio di fiori di camomilla, un pizzico di zafferano, 4-5 chiodi di garofano, 4-5 foglie di menta, se ti piace, 4-5 foglie di salvia, 3 semi di cardamomo, ma non di più, un cucchiaino di semi di finocchio. Dopo 10 minuti di sobollore, spegni il fuoco e aspetta ancora qualche minuto prima di versare la tisana nella tazza. Ma lo sai che sul mio canale trovi tanti altri video che parlano di spezie, cannella, di zafferano e di tisane. Per vederli tutti basta iscriversi con un click. A questo punto puoi dolcificare con miele, succo d'agave, sciroppo d'acero o stevia. Una tisana di zenzero bevuta dopo mangiato favorisce la digestione e ha un effetto termogenico, cioè riscaldante, che attiva il metabolismo grazie al gingerolo, il principio attivo piccante che innalza la temperatura interna. Quindi, riguardo al dimagrimento, una migliore digestione di grassi e carboidrati e un innalzamento del metabolismo possono creare le condizioni ottimali per chi vuole dimagrire. Se vuoi aggiungere un'altra spezia con effetto termogenico attivatore del metabolismo, metti un pizzico di peperoncino rosso dolce nella tua tisana. Qualità italiana è meglio. Ma non pensare, Nicoletta, che puoi mangiare quello che vuoi e poi berti la tisana di zenzero che ti brucia il grasso addominale, perché non è così. Ma se bevi regolarmente la tisana di zenzero acquisirai una buona abitudine per la tua salute che porterà con sé altre buone abitudini, come un'alimentazione più equilibrata e un regime naturalmente dimagrante. Fammi sapere come va, Nicoletta. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Vi piacciono le tisane? Magari piacciono anche ai vostri amici? Condividete questo video con loro e sui vostri social. E nel mio sito, all'indirizzo che trovate nell'info box qui sotto, ci sono tanti altri approfondimenti su questi argomenti e su queste materie di salute naturale. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.